Allora eccovi ci siete anche questa sera sono molto contenta vi do il benvenuto ancora una volta sono lieta di ritrovarvi siamo prontissimi per affrontare una nuova puntata del nostro programma angoli ci condurrà questa puntata come sempre come tutte le sere fino al momento dedicato all'informazione io vi do subito quella che è la nostra informazione di servizio che apre tutte le nostre puntate ricordate di prendere nota del nostro indirizzo email angolichiocceleespansionetv.it prendetene nota perché se volete avere maggiori informazioni lo ricordo sempre questo è il modo per chiedercele ma anche per suggerirci qualche argomento volete venga trattato nel nostro studio allora puntata variegata bella più tardi parleremo del più spettacolare acquaparco che c'è in europa il più moderno e voi direte dove dobbiamo andare in finlandia in gran bretagna chissà dove no è vicinissimo in svizzera ve lo raccontiamo fra pochissimo ma iniziamo sono molto lieta personalmente di farlo parlandovi di un libro un libro molto bello che adesso stringo fra le mie mani l'autore è un giovane comasco stefano attuario il titolo del libro beautiful day sono lieta di dirvi che l'autore è proprio nel nostro studio buonasera e ben arrivato stefano ciao roberta buonasera sono molto lieta che hai accettato il nostro invito che dunque sei qui a tenerci compagnia per parlare del tuo primo libro libro di esordio sì il mio primo libro esatto beautiful day beautiful day posso dire subito che almeno lo dico e lo consiglio già io l'ho letto è un libro molto bello che dimmi se sbaglio se dovessimo spiegare di cosa parla sostanzialmente sembra molto semplice ed essenziale ma è vero parla di vita esatto vita vita quotidiana vita reale vita che tocca ognuno di noi quindi è qualcosa di cui si vive tutti i giorni sulla pelle quindi parla di vita nello specifico per entrare un pochino di più e dare ulteriori elementi parla della tua vita non possiamo negare che comunque c'è un chiaro esempio e richiamo autobiografico molto molto infatti è iniziato un po come uno sfogo il fatto di scrivere questo libro questo mi ha portato a scrivere quello che mi è accaduto nell'arco del di questo breve periodo di vita che comunque è legato ad avvenimenti che sicuramente toccano tutti è vero la cosa bella è che chi lo leggerà e ricordo subito che comunque la casa editrice è a che edizioni così iniziamo a dare tutti i riferimenti chi lo leggerà non farà non troverà difficoltà a immedesimarsi perché è incredibile come di fatto sia un libro che parla della tua vita ma in realtà parla di tante vite magari anche dei telespettatori che ci stanno guardando perché parti innanzitutto da una cosa bellissima una storia d'amore è la tua esatto è la mia la mia è quella di mia moglie bellissima tra l'altro appunto si inizia con la nostra storia dove si fa capire dove ci sono questi piccoli sguardi questi piccoli gesti che creano delle delle vibrazioni intorno a noi fino a portarci a appunto essere fino a questo punto sposati felicemente però ecco purtroppo si sa la vita riserva delle sorprese e questo ha portato noi a ragionare su comunque a riflettere su determinate cose a maturare maturare nella vita di coppia nella routine di tutti i giorni il leitmotiv che ci sarà sempre in tutte le 170 pagine che leggerete di beautiful day è proprio un grandissimo legame una storia d'amore l'hai nominata posso farlo anche perché voi leggerete i protagonisti sono stefano e silvana la cosa bella che mi diceva lui poco prima di andare in onda era comunque è vero parto da me siamo stefano e silvana ma possono essere fabio e silvia saranno roberto e claudia insomma vero possono essere ognuno di noi perché comunque effettivamente quello che quello che si racconta è quello che succede oggi quindi si parte da sogni da sogni che si vogliono realizzare della vita di coppia quindi si parte con dei ben presupposti no che si deve fare deve scontrarsi con la realtà quotidiana la realtà quotidiana porterà il protagonista ad avere degli avvenimenti tristi anche nella sua vita è dove appunto il legame forte con la persona con cui a fianco riuscirà appunto ad avere la sorpresa ci sarà a livello a risolvere questi questi problemi io voglio cercare nel breve tempo televisivo che abbiamo perché poi ovviamente non c'è niente di meglio che per capire un libro leggerlo e questo è il nostro invito però voglio cercare di dare comunque tutti gli elementi che compongono questo libro vi ho detto c'è un fil rouge quello di un amore di una vita che parte con un matrimonio che viene fatto tra due persone che si riconoscono e si scelgono da giovanissimi ci dicevi insomma va felicemente avanti ma l'ho ritrovata anche nelle pagine del libro la profondità di questo legame e poi giustamente la vita la vita con le difficoltà una buonissima parte è data dalle difficoltà lavorative e questo rende particolarmente attuale il tuo libro perché tu non ti nascondi tu veramente racconti cosa è successo personalmente esatto esatto infatti il protagonista ovvero io in questo caso ci si ritrova a scontrare in questa realtà del duro mondo del lavoro brevemente la mia storia è che dopo dieci anni ti danno il classico ben servito ovvero non sei più utile non sei più utile e questo ti porta a confrontarti con una società o con delle persone che sono indifferenti anche a questa cosa e ti trovi tutto un tratto inutile perché comunque fino a ieri tutto quello che facevi andava bene certo e poi di punto in bianco ti senti dire che non serve più e questo ti ti sconvolge perché avevi dei ritmi avevi delle abitudini avevi delle le anche delle aspettative perché insomma dopo dieci anni si aspetta anche delle aspettative ti ritrovi per terra ritrovi per terra a ricominciare a ricominciare qualche modo c'è una crisi del lavoro molto forte nel tuo libro sulla tua vicenda personale non è difficile purtroppo immedesimarsi in questo ma la cosa bella è che non c'è una crisi mai di principi no nel il protagonista tu in questo caso però tutti i lettori che potranno magari anche immedesimarsi e trarre un'ispirazione io lo dico perché esce dalle pagine questo libro non c'è una crisi di principi perché complice il vostro legame tu trovi nel rapporto e in te stesso la forza di dire ok c'è un problema però sapete cosa c'è io vado avanti esatto esatto c'è questo rimboccarsi le maniche questo reinventarsi c'è questa questa voglia di riaccendere la fiamma ovvero è molto triste il fatto che oggi comunque quando vai a presentare i tuoi curriculum quando vai a presentarti un nuovo posto ci sono le varie scuse quindi sei troppo vecchio sei troppo giovane non vai bene per questo lavoro qua saresti sprecato ma effettivamente tu hai bisogno di un lavoro quindi alla fine tu sei alla ricerca di qualcosa che ti possa dare a te il fatto di poter continuare a sperare rimetterti in gioco e questo porta il protagonista in questo caso stefano nel libro a rimettersi in gioco e poi la famiglia l'amore della vita lo sappiamo è silvana ma la famiglia è composta da quello che farà piacere a tantissimi lettori in realtà una squadra di animali di animali meravigliosi che anche quelli scandiscono i ritmi di della tua vicenda sono diciamo forse i veri insieme all'amore per silvana sono i veri protagonisti in particolare appunto c'è desi che un cocker poi ci sarà pongo e trudi che sono due gatti sono sono degli animali fantastici al cui mi sono legato molto ecco anche questa cosa vedi m'hanno fatto capire anche loro che nella quotidianità non il brutto della quotidianità è quando perdi il filo ovvero quando ti fa spegnere la fiamma e invece devi essere sempre attivo cioè devi ti fanno vivere quindi non nascondo che nelle notti in bianco loro mi sono stati molto vicini e tu ne hai fatto una riflessione molto bella perché lo dici spesso anche nel libro dici guardando loro loro che fanno parte della mia famiglia hanno fatto parte della mia famiglia mi fanno capire come non hanno nel loro essere l'indifferenza cosa che caratterizza molte volte anche nella vicenda che racconti gli esseri umani il brutto è quello infatti sembra un contrasto dire gli animali paragonarli alle persone però ecco il fatto è che quello che fa paura dalle persone l'indifferenza nel momento in cui tu hai bisogno cosa che invece negli animali in questo caso penso che tutti si possono ritrovare in questa storia chi ha un animale lo può capire ci si può ritrovare nel senso che comunque loro non ti abbandoneranno mai mai certo il titolo mi fa da richiamo anche per ricordare che non manca l'amore e il richiamo continuo al mondo della musica perché c'è anche questo all'interno del libro effettivamente beautiful day beautiful day è tratto da un testo un titolo di una canzone a un gruppo in cui sono molto legato gli U2 è un testo semplice ma che racconta almeno nell'interpretazione dell'artista in questo caso il cantante Bono è il fatto di essere felici gioiosi per quello che ci circonda ma la parola che mi colpisce di più è la meraviglia della vita cioè essere ancora meravigliati di quello che ci sta attorno ed è questo che secondo me manca oggi cioè trovare ancora essere meravigliati quindi la sorpresa il fatto di cercare ancora qualcosa che ti possa spingere a ricercare sempre di più quindi vivere essere dire che meraviglia è quello che è bello è per quello che è bello anche leggere beautiful day ve lo dico perché ci si immedesima si vivono le difficoltà le crisi nelle quali tutti possiamo ritrovarci ma è bello perché comunque c'è il riscatto finale il riscatto secondo me è anche il non arrendersi mai di fronte alle difficoltà che è un po' il senso che si evince dal tuo libro esatto sì ho imparato io stesso a capire che nella semplicità c'è molta ricchezza non bisogna per forza essere avere dei beni materiali che ti facciano apparire ecco oggi c'è molto senso dell'apparire penso che nella semplicità ci sia questa bellezza che manca il fatto che comunque ancora non ci si guardi per me è molto importante guardare negli occhi nel senso assaporare quello che c'è di fronte sentire i profumi, gli odori, quello che ci circonda oggi è quello che poi ti rendono e rendono la vita speciale quindi è importante questo secondo me e allora io ricordo Stefano Attuario è l'autore del libro Beautiful Day edito da Achea Edizioni prendete nota della pagina Facebook di Stefano perché lì comunque si rimane aggiornati anche per quella che sarà una presentazione dal vivo esatto esatto 29 novembre dove? a Cavallasca, la biblioteca comunale del comune alle ore 21 dove appunto si presenterà il libro e vi aspetto in modo da... ci saranno anche lì con l'autore appunto con l'editore anche le copie quindi in caso non... perché possiamo andare nelle librerie e chiederlo esatto se non lo troviamo lo possiamo... fisicamente si può ordinare si può ordinare o se no andate direttamente il 29 novembre così lo sentite raccontare ancora di più da Stefano e poi potrete trovare lì la copia esatto comunque visto che il tempo sta finendo io vi dico, l'ho letto se posso consigliarvi per quanto vale il mio consiglio è una storia bellissima di chi si mette in gioco racconta la propria vita vita nella quale noi ci possiamo immedesimare lui l'ha fatto, non si è nascosto se vi piace anche tutto quello che è l'amore vissuto come secondo me il senso più vero ovvero volere il bene della persona con cui si sta se vi piace l'idea di chi non si arrende mai di chi fa ogni giorno della sua vita ci prova riuscendoci a renderlo meraviglioso insomma secondo me questo è il libro giusto per voi io ti ringrazio moltissimo per essere stato da noi grazie a te in bocca al lupo e poi vogliamo sapere se ci sarà un seguito sicuro va bene va bene grazie mille grazie intanto ringrazio ancora una volta Stefano Attuario e insieme a lui arriviamo al momento dedicato alla pubblicità non dimenticate che noi torniamo fra pochissimo grazie a tutti 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 grazie a tutti